Due arresti ieri a Scicli, in seguito a un'operazione antidroga condotta dal commissariato di Modica, dalla squadra mobile di Raguse e dalle unità cinofile di Catania, a finire in manette due tunisini da tempo residenti a Scicli, con l'accusa di detenzione in concorso e fini di spaccio di sostanza stupefacente. Negli ultimi tempi l'attenzione degli investigatori si era rivolta verso due abitazioni di Corso Garibaldi, dove si sarebbe registrato uno strano e continuo di rivieni di giovani, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Gli inquirenti avevano notato l'abitudine di lasciare i portoni di ingresso degli stabili sempre aperti, probabilmente proprio per consentire agli assuntori di sostanza stupefacente il libero accesso nell'immobile. Sin dalle prime luci dell'alba di ieri, sette equipaggi della Polizia di Stato hanno quindi presidiato il territorio di Scicli, effettuando poi la prima eruzione in una delle abitazioni. Il primo tunisino è stato bloccato nel bagno, dove si era rapidamente recato per tentare di disfarsi dei panetti di stupefacente gettandoli nel water. Il fiuto dei cani ha inoltre permesso di rinvenire altre stecchette di sostanza stupefacente nella tasca di un paio di pantaloni da lavoro e all'interno dei mobili della camera da letto, dove è stato trovato a dormire l'altro tunisino. In un piccolo locale adibito a cucina sono state inoltre rinvenuti gli utensili adoperati per il taglio ed il confezionamento delle dosi da cedere. Sia l'attrezzatura che l'hashish del peso complessivo di circa 100 grammi sono stati posti sotto sequestro. La perquisizione effettuata nell'altra abitazione di Corso Garibaldi ha portato poi a rintracciare altri cinque soggetti stranieri, che però dopo essere stati fotosegnalati sono stati rilasciati. I due tunisini sono invece stati condotti in carcere a Ragusa.